Buonasera ai nostri telespettatori, incontro con padre Nicola Bedaria questa sera per parlare di un importante avvenimento che esiterà ad Adrano dal 12 al 15 ottobre. Saranno ad Adrano le relique del Beato Giuseppe Benedetto Dusmet, una iniziativa promossa dalla parrocchia di San Paolo di Adrano. C'è un programma ricchissimo di incontri nelle scuole, nelle chiese cittadine. Di tutto questo ci parla appunto padre Nicola perché la figura del Beato Dusmet è molto legata anche ad Adrano. Innanzitutto diciamo perché è importante questa presenza, padre Nicola. Allora nel programma pastorale parrocchiale da alcuni anni portiamo delle reliquie dei santi per far conoscere la vita dei santi e stimolare i parrocchiani e anche i cittadini di Adrano ad imitare i santi. Perché l'imitazione della vita di un santo ci dice dove può arrivare Dio. Vi faccio un esempio. L'eroe, eroi nella storia ce ne sono stati tanti, ci dice dove può arrivare l'uomo. Il santo ci dice dove può arrivare Dio. E quindi il santo porta a combimento la sua umanità perché i veri uomini li troviamo nei santi. E i santi di conseguenza sono veri uomini. Quindi presentare in un mondo odierno dove i ragazzi, le persone giovani imitano diciamo gente dello sport, gente dello spettacolo, gente del cinema, gente della politica, imitano anche il mito in negativo. Il mito in negativo significa gente che impone la legge del più forte e quindi con il timore, intimorendo, le persone si impongono. E' chiaro noi vogliamo presentare la vita dei santi. Per dire che la santità è possibile, che Dio opera nella miseria umana facendo prodigi che sono i santi, che sono l'opera della grazia di Dio. Senta, per spiegare un po' meglio, prima la figura appunto del Beato Dusmet accenniamo al programma l'accoglienza del 12 ottobre, ciò che accadrà in questi giorni adattano fino a domenica 15 e poi ci soffermeremo sulla figura appunto del Beato Dusmet. Diciamo, quali sono i momenti più importanti delle quattro giornate inserite nel programma, dal 12 al 15? Allora, tutti i momenti sono importanti. L'accoglienza sarà alle ore 17.30 di giovedì 12. ci sarà il saluto del vicario Foranio Monsignor Reina, il saluto del sindaco Giuseppe Ferrante e poi in processione ci avvieremo verso la parroccia. Faremo una breve tappa in piazza San Nicolò. perché il Beato Dusmet nel tempo del colera a Catania ha voluto una reliquia di San Nicolò Politi come protettore. San Dagata, San Nicolò Politi, i Santi della Diocesi e quindi per intercessione si chiedeva che finisse il colera a Catania. Quindi c'è anche questo legame. Inoltre, Padre Conti, in previsione di questa visita che già avevamo annunziato da parecchi anni, Padre Conti come aveva preparato questo canto? Allora, ha preparato un canto che faremo lì in piazza San Nicolò con la reliquia di San Nicolò esposto perché siamo nell'anno giubilare di San Nicolò Politi e quindi ha scritto questo canto. Quindi sarà un momento anche per ricordare Padre Conti che siamo con noi quel giorno con la sua musica. E' un momento per ricordare Padre Conti che ha scritto anche questo canto intitolato Angelo di Carità. Perché il Beato d'Usmet è un angelo di carità che ha vissuto in modo eccelso la carità eroica. Cioè ha incarnato nella sua vita, nella sua persona, la carità di Dio. Perché anche questo? Perché viveva tra i poveri. Era un padre benedettino, abate del monastero di San Nicolò all'Arena, e essendo abate in un periodo storico particolare, quello delle leggi eversive, quando lo Stato si appropria dei beni ecclesiastici chiudendo monasteri vari. E quindi quando Garibaldi si è presentato, per esempio, al monastero per chiedere ospitalità, lui ha accolto i Garibaldini precisando che c'era un sacerdote che aveva apostatato, aveva rinnegato la sua rete dicendo a condizioni vi accolgo, vi ospito, a condizioni che questo qui non lo voglio. e Garibaldi ha accettato questo. E lei è stato eletto vescovo di Catania e nel suo programma pastorale ha sottolineato la scelta preferenziale per i poveri. Andevero dice che se avessimo anche un panettello lo divideremmo con il povero. Viveva povero e quando è stato più o meno chiuso il monastero i suoi monaci erano accolti anche in arcivescovato e lui viveva da monaco benedettino pur essendo vescovo di Catania. Viveva tra i poveri povero e non aveva nulla di sé nel periodo del colera andava a visitare gli ammalati se ne prendeva cura portava dei beni e la providenza sempre provvedeva per darli ai poveri non c'era nessuno che andava in arcivescovato a chiedere aiuto e tornava a mani vuote riceveva sempre qualche cosa a volte dava anche le sue coperte per i poveri periodo del vaiolo quando andava ad assistere i poveri aveva il dono della chiaroveggenza precedeva altre persone che andavano a trovarlo e stava lì a servire i poveri a volte vomitavano sulla tunica e lui puliva così con un piccolo panno con la mano stessa quel vomito con non curanza ma non solo nel periodo che c'è stato il terremoto a Nicolosi ha vissuto la solidarietà con i terremotati quando c'era la lava che stava distruggendo Nicolosi stava lì in attesa la porta il velo di Sant'Agata si ferma in un posto fa la preghiera la lava continua a scendere il guardagaso e si ferma nel punto dove lui aveva fatto la preghiera con il velo di Sant'Agata ci sono stati gli uragami in quel periodo è venuto anche ad Adrano quando c'era il colera ha preso a cuore tutta la diocesi visitava stava in mezzo alla gente la gente lo acclamava lo amava anche quando è stato eletto cardinale viveva da povero un principe della chiesa che viveva da povero da povero era molto apprezzato da Papa Leone XIII gli affidava missioni delicate dove in determinati diocesi si creavano tensioni tra clero e vescovo e lui con molta carità metteva pace era un operatore di pace praticamente le opere di carità sono state vissute in pienezza da lui le virtù eroiche la virtù della fede della speranza e della carità le ha vissute in modo eroico non solo ma aveva anche la virtù eroica della prudenza della giustizia della fortezza della temperanza unita a una vita di preghiera molto indensa a una vita interiore e spirituale molto ricca oltre a questo tu capisci che era tanto amato dalla gente più volte soccorreva ha fatto cinque volte la visita pastorale in diocesi quindi conosceva la diocesi molto bene l'aveva a cuore se ne prendeva cura ad Adrano è avvenuto il miracolo della beatificazione perché tu sai che ci sono varie tappe per arrivare alla canonizzazione la prima tappa quando si istituisce il processo per la canonizzazione già una persona diventa servo di dio si approfondiscono le virtù eroiche una volta che si vede la virtù eroica diventa venerabile poi si aspetta un miracolo di primordine per la beatificazione ci sono stati tanti miracoli ma quello che è stato scelto è stato proprio quello di Salvatore Consoli qui ad Adrano era un muratore se non sbaglio nel 1931 è stato riconosciuto sì è avvenuto il miracolo nel 1931 poi la beatificazione è avvenuta nel 1988 è stato Papa San Giovanni Paolo II a beatificarlo il miracolo è del 31 sì praticamente era questo muratore che mentre stava lavorando cade dalla scala e si rompe se non ricordo male la decima lombare quindi le sue condizioni peggioravano continuamente e se non che la famiglia cosa ha fatto la pietà popolare della gente è una fede semplice non della fede dei tendi possiamo dire eccelsa forbita ma della fede semplice del popolo santo di Dio hanno preso un'immaginetta del Duzmet dei fiori che erano nella tomba del Duzmet li posano sul corpo di questo Salvatore Consoli e guarisce immediatamente improvvisamente tutto riconosciuto dalla Chiesa tutto riconosciuto dalla Chiesa e di conseguenza dopo anni si sono cercati questi miracoli la causa è andata avanti e poi Papa San Giovanni Paolo II lo ha scritto nell'elenco dei Beati si aspetta un altro miracolo per la canonizzazione scordiamo che Adrano ha dedicato una delle vie centrali al Beato Duzmetta la via che scende da Piazza San Pietro a Piazza Umberto fino a Santa Chiara esatto il programma più o meno brevemente perché è fino a domenica il programma c'è l'accogliente vi stavo dicendo prima poi ci fermeremo a San Nicola continueremo la processione per via Garibaldi Piazza Giacomo Maggio via Catena Piazza Giovanni XXIII via San Bago nella Chiesa Nuova appena arriveremo c'è la celebrazione dei Vespri poi il corpo sarà risposto per la venerazione dei fedeli e un corpo se tu vedi le mani sono ancora incorrotte e il corpo per la venerazione dei fedeli poi alle 21 e 15 ci sarà una veglia sul tema le virtù eroiche del Beato Giuseppe Benedetto Dusmet e i giovani di oggi è uno stimolo per i giovani a vivere la vita virtuosa perché oggi la virtù è diventata un vizio va bene non si sa neppure che cos'è mentre le virtù ci aiutano a vivere in modo onesto moralmente integro e a portare a compimento la nostra umanità collaborando con la grazia di Dio perché le virtù non si incarnano nella nostra anima le virtù infuse cardinali e teologali hanno bisogno dell'esercizio andiamo avanti col programma e poi dopo la veglia tutta la notte fino alle 7.30 del mattino la chiesa sarà aperta per la venerazione del corpo e faremo canti e preghiere continuamente alle 7.30 del mattino ci saranno le lodi e la santa messa alle 9.30 verranno i ragazzi della scuola Patellaro della scuola dell'istituto comprensivo Giovanni Verga e quello della Guzzardi che più o meno sono quasi vicine e quindi possono portare i ragazzi i ragazzi saranno intrattenuti da donne il De Brando Scicolone che è un sagerdote benedettino e quindi l'istituto comprensivo Bascetta però l'exeverga non solo l'exeverga la Guzzardi e il secondo circolo didattico di Don Antonio della Mera Patellaro dopo durante perché alle 9.30 c'è una scuola alle 10.30 un'altra alle 11.30 un'altra ancora durante la pausa del pranzo la chiesa rimarrà aperta per i fedeli che vorranno venire a venerare il corpo del Biatedus mette pregarlo chiedere intercessioni e chiedere preghiere per ottenere grazie e poi nel pomeriggio alle 16.30 ci sarà la preghiera del rosario alle 17.30 una catechesi per far conoscere il Duzmet ed è il cardinale il beato Giuseppe Benedetto Duzmet vero discepolo di San Benedetto perché viveva la regola in modo egregio lui si chiamava Giuseppe Benedetto aveva tantissimi nomi tantissimi ma tantissimi nomi e poi ricordiamo alcuni di questi non me lo ricordo io perché giuseppe Benedetto aveva tanti altri nomi che aveva scelto lui i genitori i genitori al momento del battesimo ma tanti quanti non so se era un 7-8 7-8 nomi però era Giuseppe il suo nome principale tra questi nomi Giuseppe Benedetto poi quando fa la professione sceglie questi due nomi e poi dopo alle 19.30 dentro la messa ci saranno i Vespri così come al mattino non l'abbiamo messo nel programma perché mi è sfuggito alle 21.15 una veglia animata dal consiglio pastorale parrocchiale sul tema la cura pastorale del Beato Giuseppe Benedetto D'Usmet nella Diogesi di Catania e questo dopo tutta la notte in preghiera dopo la veglia la Chiesa rimarrà aperta per venerare il Sacro Corpo sabato la stessa cosa le scuole verrà il liceo lo sabato verranno i ragazzi degli istituti superiori giusto? il liceo ginnasio Giovanni Verga e poi la scuola cattolica Santa Lucia ci sarà sempre padre Ciccolone nel pomeriggio sempre la stessa lo stesso programma alle 16.30 il Rosario alle 17.30 la Catechesi questa volta sulla virtù sulla carità eroica del Beato D'Usmet e poi alle 21.15 alle 19 Vespra e Santa Messa alle 21.15 una veglia di preghiera animata dalla legione di Maria del vicariato di Adrano sul tema l'amore la vita l'amore a Maria del Beato Giuseppe Benedetto D'Usmet Madre di Dio e poi dopo la veglia sempre la chiesa sarà aperta per venerare il corpo domenica mattina alle 7.30 l'odio e Santa Messa alle 9.30 un'altra Messa alle 11 un'altra Messa ancora poi nel pomeriggio alle 16.30 c'è la preghiera del Rosario alle 17.30 una Catechesi sul tema la vita nello spirito del Beato Giuseppe Benedetto D'Usmet e poi alle 19 ci sarà Monsignore Genchi Vicario Generale della Diocesi a celebrare la Santa Messa dopo daremo il commiato con l'impegno perché questo è importante di imitare le virtù eroiche del Beato D'Usmet i Santi vengono elevati agli onori degli altari proprio per essere venerati pregati perché possono intercedere e ottenerci le grazie necessarie per la nostra conversione e la nostra salvezza e poi perché li possiamo imitare abbiamo visto che il programma lo sa a memoria lui non ha letto durante tutta l'elengazione degli appuntamenti ricordava anche gli orari tutti i temi stiamo diventando vecchi però vabbè però il fatto che mantiene la memoria su un programma di quattro giorni è importante ho visto anche ho notato pure che ha studiato la vita del cardinale D'Usmet l'ha studiata per questa occasione o erano cose che sapeva quando sono entrati in seminario era in concomitanza l'anno successivo ci hanno regalato un grosso volume di 680 pagine del beato D'Usmet alcune cose le sapevamo qualche volta leggevamo qualche pagina ci sono stati altri scritti di autori diversi tra cui padre Gaetano Zito e questo volume ultimamente durante gli esercizi spirituali che sono andato a fare ad agosto e anche prima nei momenti quando non c'erano meditazioni preghiere incontri degli esercizi quindi la sera tardi prima di andare a letto mi mettevo a leggere qualche pagina di questo libro cioè sono 680 pagine è chiaro che è una vita straordinariamente bella straordinaria e invitiamo come diceva lei insomma tutte queste cose le reliquie si portano nelle parrocchie nelle chiese non per fare una semplice presenza ovviamente dietro c'è un significato importante mi colpiva prima quando diceva ecco i nostri ragazzi hanno come imitano spesso o hanno come idolo i campioni dello sport attori i personaggi della televisione sarebbe bello invece se avessero un santo da imitare o da seguire o da conoscere leggere sarebbe bello leggere la vita del candidato tu smette anziché la vita di qualche eroe dello sport ma tieni presente anche che i santi ci dicono come vi dicevo prima la compiutezza dell'uomo chi è l'uomo la vera umanità dell'uomo ecco mi ha colpito invece un'altra frase diceva sono importanti le presenze dei santi perché ci spiegano ci indicano sino a dove può arrivare Dio è una domanda che faccio a lei dove può arrivare Dio che ancora non è arrivato dove può arrivare Dio Dio arriva a far diventare come lui una creatura umana misera peccatrice debole arriva lui e lo eleva nella sfera della sua divinità lo deifica lo diviniza questa è la grandezza di Dio il motivo per cui Dio ci ha creati qual è stato per essere santi dice San Paolo nelle lettere degli Efesini e immacolati al suo cospetto nella carità predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo quindi questa è la nostra vocazione la vocazione alla santità chi nella vita non diventa santo sarà un fallito perché questa è la nostra vocazione il battesimo ci fa santi dal punto di vista sacramentale c'è una trasformazione dell'esso una trasformazione ontologica ma questa santità sacramentale deve diventare santità personale nella vita quotidiana carne della nostra carne allora sì possiamo dire lì è arrivato Dio perché l'uomo è stato santificato deificato e per dirla con San Gregorio di Nazianzo per usare un'espressione possiamo dire osiamo dire che è diventato lo stesso Dio un uomo bene allora concludiamo qui questo incontro con padre Nicola Petalli abbiamo illustrato il programma un incontro speciale per illustrare appunto la visita ad Adrano la prota ad Adrano del reliquio del Beato Giuseppe Benedetto Dusmet accoglienza giovedì 12 ottobre alle 17.30 in Piazza Umberto poi il corpo perché la reliquia consiste in tutto il corpo di padre tutto il corpo il termine reliquia significa ciò che rimane ciò che rimane in attesa della risurrezione per questo i santi lì sopra vivono una vita non naturale perché la vita naturale qual è? spirito anima e corpo a causa del peccato il corpo si separa dall'anima ma i santi sono molto legati al loro corpo in attesa della risurrezione per questo quando c'è una reliquia c'è anche la presenza del santo non sono solo ossa o corpo incorrotto e l'incorruzione ci dice cosa fa l'Eucaristia è il farmaco dell'immortalità la reliquia allora resterà sino a domenica 15 nella chiesa di San Paolo ad Adano quindi invitiamo tutti a partecipare tutti piccoli e grandi a partecipare a fare una piccola visita in questi quattro giorni appunto nella chiesa di San Paolo di Adano perché per scoprire anche questo cardinale che è molto legato ad Adano c'è questo miracolo che credo che credo che ci sia anche in questo miracolo Zambini San Nicolò Polito di cui il cardinale era devoto si infatti lo abbiamo ospigato anche all'inizio va bene grazie allora Padre Nicola grazie a voi grazie a tutti per tutto quello che fa per la nostra città grazie grazie anche a coloro che ci hanno seguito buonasera grazie a tutti grazie a tutti